buongiorno a tutti ragazze prima cosa voleva dire tanto grazie per complimenti per commenti molto piacere mi raccomando mettete like e campanile così voi non perdete prossimo nostro video oggi voglio presentare voi nuovo motivo guardate che bello giro nel tutti e parte così voi vedete guardate si può fare per cardigan per maglione copertine e tutte dipende anche dalla nostra fantasia come io sempre sempre dico guardate che bello questa parte di diritto questa parte di rovescio guardate anche parte di rovescio non è mica brutta guardate e ancora faccio parte di diritto guardate molto molto bello e cosa mi piace cosa molto semplice da fare voi sapete me non piace ruba complicato mi bisogno presto e bello secondo me voglio dire come io ho guardato già ho fatto questa questo video qui si può anche fare distanze di rite forse si può fare anche di più si può usare anche questo solo come questa motivo come decorazione sotto oppure maniche oppure davanti guardate molto 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 bello allora si ama due mali nostra schema e quattro giri quattro giri questa compreso anche parte di di rovescio guardate semplicissimo bello e allora camminciamo allora si ama noi abbiamo una maglia e quattro giri e adesso camminciamo questa nostra siamo una maglia camminciamo entriamo mezzo prima e questa seconda mettiamo qui ago prendiamo lana tiriamo e questa maglia facciamo diritto ripetiamo entriamo mezzo due due mali e così due mali e così prendiamo lana e facciamo mali e questo diritto ripetiamo entriamo prendiamo lana tiriamo e questa balli a una facciamo diritto un po scivolato perché un po scomoda tramite la camera continuiamo entriamo tiriamo e questa maglia faccio diritto un po scivolato perché un po scomoda tramite camera continuiamo entriamo tiriamo e e questa maglia e questa maglia facciamo diritto e questa maglia facciamo diritto così ripetiamo entriamo prendiamo tiriamo e diritto entriamo a mezzo diamo a mezzo a mezzo a due mali e stoveanne anche a mezzo a 2 mali e tiriamo a ms così detto fino a che hanno tozz Leo archi emiglio al petto da cuelletto questo Incorpreet anzi e passiamo una resa di un po' spazzolo e un po' un po', e un po' in calço e un po' in calcio e un po' in calcio entrare con il po' in e retto a mezzo a met finishing iniziano entriamo e facciamo questa ragazze primo giro ci vediamo nel giro due parti di rovescio questa ragazza e questo primo giro voglio vedere voi ancora cosa noi abbiamo fatto noi abbiamo fatto dalla una abbiamo fatto due questo primo primo giro dovrebbe essere anche da voi essere così adesso giriamo e facciamo giro numero due parti di rovescio giro numero 2 adesso voi vedete cosa va con copia come dalla una maglia noi abbiamo fatto due questa copia questa copia questa paio questa paio questa paio e adesso guardate cosa noi facciamo con questi semplicissimo adesso questi tutti facciamo tutti così insieme diritti questi copia due insieme noi facciamo diritti due insieme facciamo così diritti tutti vanno diritti tutti vanno diritti questi due vanno insieme e diritti questa paio giro numero due parti di rovescio questi questi copia noi facciamo insieme diritti guardate tutti tutti facciamo diritti tutti facciamo diritti questo noi abbiamo fatto giro numero 2 adesso giriamo e facciamo giro numero 3 parte di diritto giro numero 3 parte di diritto come voi vedete venuti così nodine vedete come dentine e adesso facciamo giro tutti e mali e vanno diritti e vanno diritti e vanno diritti e guardate guardate questi questi quali voi voi vedete questi tutti e questi copia quali noi abbiamo fatto diritti e dalla altra parte e adesso noi dalla giro numero 3 facciamo anche tutti mali e vanno diritti e tutti mali e vanno diritti e giro numero 3 tutti mali e vanno diritti e tutti mali e vanno diritti e continuiamo ecco abbiamo finito giro numero 3 parte di diritto e dovrebbe venire è così da voi adesso giriamo dalla parte di rovescio e facciamo giro numero 4 giro numero 4 dalla parte di diritto e tutti mali e vanno diritto rovescio guardate tutti mali e vanno rovescio tutti mali e vanno diritti facciamo rovescio e così ragazze continuiamo andiamo continuiamo da soli perché tutti capaci fare male di rovescio ecco abbiamo finito giro numero 4 e giriamo nella parte di diritto e guardate cosa venuta da noi guardate uguale come io ho presentato voi queste queste motive dall'inizio non cambiate niente cosa io ho detto come voi volete avere qui distanza un po di più adesso voi potete qui fare un giro così diritto rovescio e dopo cominciare come giro numero uno dalla una maglia voi fate due ricordate dovete entrare tramite queste due a maglie voi entrati e tirate fuori un citato e questa fate diritto e così tutta ogni ogni maglia e così 44 giri e tutto ragazze l'ho cantata tutto ho fatto vedere tutto la ringrazio voi tutti ancora per commenti mi raccomando non scordate mettere a me like e tanto voi grazie io auguro voi buon salute fortuna e buon lavoro